Oggi 16 dicembre, 100 litri a metro quadro di acqua nel bacino imbrifero del calore alla cascata della madonnella gradonata, i gradoni non si vedono più e il tutto è una rapida in evoluzione, con la parte alta in cascata, con la quasi torbida regata agli incendi dell'ultimo periodo estivo del 2017. Lo spumeggiante bianco è dovuto all'energia sviluppata, il resto, come si può vedere, è in torbida. Il resto è in torbida.